Ben trovati al TG6, apriamo con la cronaca, truffa aggravata e false attestazioni. La finanza indaga 46 dipendenti del comune di Sulmona accusati di assenteismo. La guardia di finanza ha denunciato una serie di furbetti dipendenti del comune di Sulmona che timbravano il cartellino e uscivano dall'ufficio. Le indagini coordinate dal sostituto procuratore Stefano Iaffolla hanno consentito di rilevare, in un arco temporale di circa 7 mesi, gravi irregolarità commesse da parte di molteplici impiegati. Molti tornavano a casa a pranzo senza timbrare l'uscita dal posto di lavoro, altri uscivano dall'ufficio per andare al bar o a fare shopping. Secondo quanto appurato dalle fiamme gialle, c'era addirittura chi, con la complicità del collega presente in ufficio, registrava all'inizio o la fine del servizio pur essendo assente, raggiungendo poi in netto ritardo l'ufficio o allantolandosene in largo anticipo. Tra le contestazioni di cui devono rispondere c'è anche l'illegittima fruizione dei buoni pasto. Le telecamere nascoste posizionate dai militari nel perimetro di alcune sedi del comune, supportate da ulteriori attività di riscontro, come l'analisi dei terracciali dei cartellini magnetici, i pedinamenti, gli appostamenti e l'osservazione dei soggetti interessati, hanno così portato all'individuazione di numerosi soggetti. In alcuni casi i finanzieri hanno controllato anche la regolare emissione degli scontrini fiscali da parte dei negozi nei quali i dipendenti del comune compravano durante le ore di lavoro. L'acquisizione dei prospetti di conturni mensili di ciascun dipendente presso il comune ha permesso di riscontrare gli illeciti. I responsabili devono rispondere di una serie di reati che vanno dalla truffa aggravata alle false attestazioni. In merito alla vicenda è stata interessata anche la procura regionale della Corte dei Conti dell'Aquila per il recupero dei compensi illecitamente percepiti. La vicenda fa seguito a casi assenteismo scoperti al distretto sanitario di Prato della Perigna, per i quali la magistratura contabile ha recentemente condannato tre dipendenti a risarcire la ASL. Ed è un caso che lascia sconcertati. Adesso più che mai è urgente una riorganizzazione della macchina comunale. Così l'assessore al personale del comune di Sulmona, Cristian Lacivita, interviene sull'inchiesta della procura sui presunti casi di assenteismo che vede coinvolti quasi la metà dei dipendenti comunali, come abbiamo visto nel servizio. Appena preso possesso dell'incarico d'assessore o subito esaminato i cartellini di tutti i dipendenti comunali, spiega Lacivita, notando qualche caso di irregolarità per questi motivi. E non solo, proprio l'assessore delegato al personale, in accordo con la sindaca, Anna Maria Casini e il resto della giunta comunale, aveva diramato una circolare interna in cui si invitavano tutti i dipendenti, compresi funzionari e dirigenti, al puntuale rispetto degli orari di lavoro, fissando alle 8.45 il termine massimo per timbrare l'inizio della giornata lavorativa. In particolare, in quella circolare, ho raccomandato a tutti di essere presenti puntualmente sul posto di lavoro, soprattutto negli orari di ricevimento del pubblico, conclude l'assessore al personale. Non è assolutamente tollerabile che in quegli orari i cittadini trovino gli uffici vuoti, così come ho fatto divieto dell'uso del telefonino personale durante le ore di lavoro. Ed ancora cronaca, circa 1.500 articoli, in gran parte giocattoli, senza le prescrizioni previste dagli articoli 6, 7 e 9 del Codice del Consumo, che tutela la salute, imponendo sui prodotti in vendita e nelle confezioni le informazioni in lingua italiana per il corretto uso, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Ortona in un esercizio commerciale di Rocca San Giovanni, gestito da persone originarie del Bangladesh. Il titolare dell'esercizio commerciale è stato deferito alla competente autorità amministrativa per la violazione dell'articolo 11 del Codice del Consumo. E cambiamo argomento, pochi giorni fa sono arrivate le accuse dei consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle sulla gestione fallimentare della TUA. Oggi è arrivata la risposta del Presidente Luciano D'Amico, che ha voluto chiarire i dati alla presenza di dirigenti e sindacati. Francesca Romana Tessi. Dossier contro dossier, se i grillini avevano presentato dati allarmanti sulla gestione dell'azienda unica di trasporto TUA, parlando di fallimento e debiti inesigibili, a distanza di qualche giorno risponderei il Presidente Luciano D'Amico, che, dati alla mano, presenta tutti i numeri che smentiscono il falso allarme. A partire dalla seconda metà del 2014, quando è stato avviato il percorso di fusione, abbiamo recuperato 4 milioni e qualcosa sul risultato industriale nel 2014, 9 nel 2015, stimiamo in 12 il recupero del 2016. Se sommiamo 4 più 9 più 12, arriviamo a 25 milioni di costi eliminati. Questo recupero di valori va a tutto vantaggio dei cittadini abruzzesi. Se a questo aggiungiamo i maggiori servizi ferroviari erogati senza nessun incremento del corrispettivo, ammontano a circa 3 milioni e 2 nel 2015, 3 milioni e 2 nel 2016, arriviamo ad un recupero di valore per 32 milioni di Euro. Credo che un'operazione di fusione tra partecipate pubbliche che produca 32 milioni di Euro di recupero di valore in poco più di due anni non abbia davvero timore di essere criticata. Numeri confortanti che, spiega, non avrebbe mai pensato di poter ottenere ad inizio mandato e forse quella pubblicata dai grillini è stata la mossa di un attacco che nulla aveva a che vedere con i trasporti pubblici. Hanno commesso l'errore di immaginare che i crediti esposti in bilancio al 31 dicembre 2015 non siano esigibili. Immaginano contro l'evidenza anche del bilancio un aumento di debiti mentre i debiti diminuiscono e immaginano una tendenza all'aumento dei costi, mentre i costi sono tutti, assolutamente tutti in flessione. È un errore di interpretazione clamoroso, una visione assolutamente distorta. Credo che i 5 Stelle siano stati strumentalizzati da qualche scheggia impazzita che per merito a conti personali all'interno dell'azienda intende gettare fango su un percorso di risanamento che è assolutamente virtuosissimo. La penalizzazione del trasporto pubblico ha tolto all'Abruzzo 10 milioni di euro di finanziamenti. Anche altre regioni sono state interessate dai tagli, ma la CGL ha scoperto che Campania e Molise hanno ottenuto fondi straordinari dal governo Renzi. Per questo il sindacato chiede alla giunta D'Alfonso di attivarsi. Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia e Marche. Sono queste le regioni che hanno subito un taglio in gente ai fondi destinati al trasporto pubblico per obiettivi mancati. L'Abruzzo in particolare si è vista levare 10 milioni di euro e la notizia oggi è quella di due regioni che hanno ottenuto dal governo fondi in forma straordinaria per quasi 700 milioni. La CGL lancia la sveglia alle istituzioni locali. Il governo nazionale ha emanato un decreto legge, un decreto fiscale che tra le tante cose prevede risorse aggiuntive per alcune regioni. Le regioni sono la Campania e il Molise. La prima regione a fronte di un taglio che aveva avuto di 32 milioni di euro ha avuto ben 600 milioni di euro per ripianare i debiti della più grande società regionale di trasporti che è l'Eav. Il Molise dal canto suo invece ha avuto a fronte di un taglio di 3 milioni di euro ha avuto un finanziamento di 90 milioni di euro per sanare la situazione debitoria contratta con la società Trenitalia. 22 parlamentari abruzzesi, consiglieri regionali e presidente sono loro a dover ottenere risorse straordinarie definite nel recente decreto legge fiscale emesso dal governo. A questo punto ci aspettiamo che gli stessi politici abruzzesi ma anche i consiglieri regionali in testa il governatore D'Alfonso intervengano con tutte le forme possibili e immaginabili affinché vengano trovati ulteriori risorse che servono a sanare questi tagli che sono stati inflitti ingiustamente ad una regione che invece di andare con il cappello in mano dal governo Renzi si è corciata le maniche e ha effettuato una delle più importanti riforme nel campo dei trasporti ovvero la costituzione dell'azienda unica regionale. E protesta dei trattori a Pescara a promuovere il comitato NoCas di cui fanno parte agricoltori dei comuni di Rosciano e Cepagatti, Manuppello e Chieti. L'iniziativa cui hanno partecipato diverse decine di persone è finalizzata a chiedere alla regione soluzioni alternative al progetto delle vasche anti-esondazione del fiume Pescara, soluzioni che permetterebbero di evitare la distruzione di 120 ettari di terreno. Vogliamo Presidente! Vogliamo! Vogliamo! Vogliamo Presidente! Vasche di espansione al posto di campi coltivati monta la protesta degli agricoltori di Cepagatti che rischiano di vedersi espropriare di 120 ettari di terreno fertile, terreno che rappresenta lavoro e sostentamento per tantissime famiglie. In effetti qui si parla di espropri che in realtà non sono neanche degli espropri veri e propri perché il terreno rimarrà in capo ai proprietari e quindi non verranno neanche pagati per realizzare queste vasche. Sono diverse vasche per un totale di 120 ettari di terreno. La maggior parte delle aree verrà scavata, modificata, per cui a detta di molti dei più i terreni non saranno coltivabili, però rimanendo in realtà nelle mani dei proprietari, i proprietari si ritroveranno così con nulla in mano, ma anzi la maggior parte di loro di questo lavoro vive e sopravvive. Cosa succederà dopo questo primo incontro? Il Comitato Via si è espresso con parere favorevole ma con diverse prescrizioni, soprattutto da parte dell'Arta perché c'è una problematica anche inerente a rifiuti. Ci sono state dalle analisi fatte sui terreni e in falda, si è visto anche che in alcuni punti ci sono dei superamenti, delle concentrazioni limite e quindi questa è un'altra problematica dell'opera. Adesso si è aperta la conferenza di servizi successiva alla Via dove noi come Comune stiamo ancora ribadendo una volta il nostro no. E dopo la decisione del Tribunale di Pescara sono iniziati i lavori allo stabilimento Lepiot per la messa a norma della struttura. Soddisfatto Maurizio Acerbo che fu tra i promotori della battaglia legale. Paolo Renzetti. In realtà De Cecco è stato condannato cinque anni fa. Questa è l'esecuzione di una sentenza che ci sono voluto di cinque anni per vedere poi attuata. Adesso c'è il cartello quindi probabilmente finalmente si abbatteranno gli abusi edilizi sulla spiaggia che è demanio marittimo e quindi proprietà collettiva di tutta la comunità. È restituita la vista mare su piazzale Le Laudi che ricordo è uno slargo della pineta d'Annunziana che è sottoposto a vincolo del Ministero dei beni culturali nel 1965. Purtroppo le autorità pubbliche a Pescara e non solo a Pescara si sono sempre dimenticati di far rispettare la bellezza dei nostri luoghi. Questo riguarda tutto il demanio marittimo. La vicenda è molto triste perché questa ebbe grande risonanza perché De Cecco mi querelo, poi i giudici dettero ragione a me, tant'è vero che è stato condannato lui, ma Rifondazione insieme al Comitato Mare Libero ha dovuto condurre una battaglia di anni insieme a cittadini della zona come Mario Cipollone che oggi non c'è più contro questi abusi, ma le pubbliche autorità dovrebbero controllare gli abusi su tutto il litorale perché ripeto la spiaggia non è di tutti, non è di qualche operatore che ha avuto la concessione. Il compito della politica non è coprire gli abusi o fare ingrandire gli stabilimenti ma garantire il mare pulito per i balneatori, per gli operatori e per i cittadini. Voglio ricordare che purtroppo appena entrato da Alfonso in regione ha approvato un nuovo piano demaniale marittimo che consentirà di ingrandire ulteriormente gli stabilimenti e che noi speriamo venga abrogato al più presto perché è un attentato a quel poco di vista male che è rimasta. E l'Abruzzo è in testa nella classifica della raccolta di carta e cartone nel mezzogiorno dei dati e delle prospettive del riciclo dei materiali cellulosici. Si è discusso nel corso della prima edizione degli Stati Generali del Sud organizzati a Napoli. E' l'Abruzzo a guidare la raccolta differenziata di carta e cartone nel mezzogiorno. Lo scorso anno sono stati raccolti 52,3 kg di materiale cellulosico pro capite, mentre la media nazionale si attesta a 51,5 kg e quella del Sud a 31,5. I dati sono stati diffusi dal Comieco, il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclaggio degli Imballaggi a Base Cellulosica, all'interno del ventunesimo rapporto annuale. Nel dettaglio la provincia più riciclona è Pescara con 58,9 kg per abitante. Segue Chieti con 56,8, poi Teramo 48,8 e l'Aquila 43,3. Noi stiamo portando ormai da anni una strettissima collaborazione con il Consorzio Comieco, stiamo sviluppando le iniziative previste in un accordo di programma chiamato Incartiamoci come provocazione alla digitalizzazione della pubblica amministrazione e stiamo dando molto turbo alle raccolte differenziate al riciclo di carte e cartone. L'unico scenario che ci siamo dati nell'ambito del nostro nuovo piano di gestione dei rifiuti e vanno intanto dalla implementazione dell'impiantistica pubblica. Delle potenzialità di sviluppo della raccolta differenziata nel mezzogiorno si è discusso nel corso degli Stati Generali del Sud promossi la scorsa settimana a Napoli da Regione Campania e Comieco a cui hanno partecipato anche i rappresentanti di Regione Abruzzo. I ritardi del Sud sono oggettivi ma disomogenei, occorre quindi individuare delle strategie più efficaci per portare il meridione ad un cambio di passo omogeneo. Abbiamo delle zone buone, abbiamo circa 11 province che stanno sopra il 50% e però abbiamo 22 province che stanno sotto il 30-35%, quindi c'è un forte margine di recupero. Le dieci regole che escono dal manifesto dei primi Stati Generali dei Comuni e degli amministratori del Sud per la raccolta differenziata, in particolare i carte e cartone, credo che siano essenziali per dimostrare che il Sud può diventare un campione a livello nazionale. Ieri nuova riunione con Comune di Pescara, Regione Lega B, Invitalia e Credito Sportivo per la ristrutturazione dello Stadio Adriatico. Si lavora ad un nuovo e funzionale impianto con licenza UEFA. Vediamo. Assessore Diodati, ieri un altro importante passo avanti per il restyling dello Stadio Adriatico. C'è stato questo incontro in comune e quali sono le novità? Noi ci è perso di capire che ci sia ampia disponibilità da parte della società interessata alla ristrutturazione dello stadio di venire incontro ai vincoli della sovrintendenza. C'è da limare qualche piccola cosa, però diciamo che in linea generale la situazione mi sembra assolutamente migliorata rispetto a qualche mese fa. Adesso abbiamo un dato in più perché è interessata anche a questo progetto di ristrutturazione anche l'Invimit che è una società del Ministero dell'Economia e della Finanza che di solito interviene nella ristrutturazione di grandi strutture o nell'acquisto di grandi strutture per cui è venuto ieri il Presidente nazionale dell'Invimit, è venuto il Commissario del Credito Sportivo dando la loro disponibilità a un'eventuale partecipazione a questo progetto importante. Noi ci crediamo adesso nel giro di brevissimo tempo, ma veramente brevissimo tempo visto che anche la Regione che ha mandato un suo rappresentante, il Dottor Ruffini, all'incontro di ieri anche la Regione vede con piacere, con grande favore questo intervento su Pescara faremo un incontro nell'arco di forse una settimana, dieci giorni con tutti gli attori protagonisti compresi la sovrintendenza in maniera tale che si possa cercare di arrivare a chiudere questa partita che già dura da un paio d'anni e io credo che la volontà da parte dell'amministrazione c'è la volontà da parte della Lega di Serie B c'è, sembra che si stia avvicinando anche la volontà da parte della sovrintendenza credo che insomma ci stiamo avvicinando alla conclusione. E non dimentica le sue origini giuliesi il Dottor Francesco Caprioni, oncologo di recente Assurdo agli oneri della cronaca assieme all'equip dell'ospedale San Martino di Genova che si è aggiudicata il premio dedicato alle innovazioni nel campo della lotta al cancro. Vediamo. Quando si parla di malattie oncologiche un brivido scorre lungo la schiena e il ricordo di tante vite spezzate a volte ci fa perdere la speranza ma invece no, non bisogna arrendersi. Siamo a Giulianova e abbiamo l'onore di incontrare un dottore Francesco Caprioni che ha avuto una menzione di merito alla sua carriera professionale perché è entrato nel team del professor Sobrero e quindi lavora nell'Istituto Oncologico di Genova di San Martino. Il professor Sobrero dopo tanti anni di ricerche ha ottenuto questo riconoscimento da parte dell'ESMO che sarebbe l'Organizzazione Europea, la Società per l'Oncologia Medica che ha riconosciuto la valità delle sue ricerche e quindi l'ha premiato per quanto riguarda l'oncologo del 2016. Siamo in una fase di forte espansione culturale per cui riguarda la ricerca oncologica e questo è uno dei motivi per cui il mio primario è stato premiato a ricevuto questo ESMA Award e quello che adesso più è in auge per quanto riguarda la ricerca è quella che viene chiamata in maniera impropria l'immunoterapia cioè il fatto di non usare più dei farmaci che uccidono le cellule la chemioterapia è il tipico esempio ma che invece cercano di rinforzare quello che è il nostro sistema immunitario che era originariamente deputato appunto ora a combattere i tumori e questi nuovi farmaci adesso stanno entrando nell'uso comune e i risultati sono sorprendenti sia in termini di efficacia ma soprattutto in termini di tossicità. Professor Francesco Caprioni, stabiliamo un obiettivo realmente raggiungibile? L'obiettivo è quello di riuscire ad aumentare la sopravvivenza o curare le persone migliorando essenzialmente la qualità della vita. E tra gli appuntamenti è stato presentato il programma dell'Abruzzo Open Day Winter a Pescara che si terrà dal 28 al 2 novembre. Vediamo. Sessore Cuzzi, nell'Abruzzo Open Day, Pescara protagonista con alcuni eventi che si terranno in città alla prossima settimana. L'Open Day è una straordinaria opportunità e una straordinaria operazione di promozione sinergica del territorio. Accadranno tante cose in Abruzzo, accadranno tante cose al Pescara dal 29 al 31. Noi abbiamo scelto un progetto finanziato dalla regione originale, Pescara Original Soundtrack, quindi ci saranno dei luoghi della città dove le persone potranno abbinare attraverso i social la colonna sonora preferita e questo poi genererà una colonna sonora per tutti i luoghi significativi della città e poi avremo importanti eventi a partire da una mostra al Vittoria Colonna e poi eventi importanti andando a promuovere quelle che sono le eccellenze del nostro territorio in campo culturale, sia il Festival delle Latturature che avrà un'anteprima all'interno del mercato di Piazza Muzzi nella giornata del 29 e poi avremo anche le anteprima dell'Indie Rocket Festival 2017. Inoltre abbineremo a tutto questo un'area enogastronomica che anch'essa evoca importanza culturale che è quella di Pescara Vecchia che nel 31 sarà luogo di diverse iniziative. Inoltre posso aggiungere che fuori dal programma ufficiale finanziato della Regione il 31 avremo anche importanti iniziative sotto il profilo commerciale un'anteprima del Pescara Shopping Christmas che vedrà il centro pedonalizzato, tanti micro eventi e la disponibilità dei commercianti che avranno un orario prolungato di apertura delle attività commerciali. Ed ancora la DMC Gran Sasso Laga ha presentato questa mattina nella sede del Consorzio BIM di Teramo un calendario di attività in programma sul territorio a partire da domani e fino al 2 novembre. Enogastronomia, storie, artigianato, sport ed escursioni nella natura per scoprire il fascino della montagna. Tania Bonici Castelli. 24 iniziative, vere e proprie esperienze sensoriali per riscoprire l'anima più autentica della destinazione Gran Sasso Laga in programma per il Ponte di Ogni Santi. Una settimana di eventi finanziati nell'ambito del bando regionale Abruzzo Open Day Winter è presentata dalla DMC Gran Sasso Laga nella sede del Consorzio BIM di Teramo. Si inizia da domani fino al prossimo 2 novembre. Domani iniziamo con gli eventi con innanzitutto delle attività che si possono fare a cavallo verso il maneggio Team Morse qui a Varano poi ci sono anche già domani attività in biblioteca dedicate a varietà e poi nei prossimi giorni ci saranno eventi per tutti i gusti quindi della Sagra della Castagna a Leofara quindi prodotti tipici per ogni tipo la Sagra del Tartufo a Poggiunbricchio anche a Castel Castagna a Villapetto ci sono diverse degustazioni tutte di solito abbinano anche la scoperta del territorio tra tutti questi eventi qual è il più originale? Noi abbiamo fatto una selezione attivando le energie del territorio e sicuramente uno molto particolare è l'antica Via del Carbone d'Isola del Gran Sasso che recupera una storica tradizione ormai in disuso però la particolarità di questo evento racconta bene quello su cui questo territorio può puntare cioè storia, folklore, tradizione recuperare certe identità che al turista di questa epoca interessa molto quindi io punto molto su queste esperienze affinché si possano replicare maggiormente anche in futuro su questo territorio l'Abruzzo Open Day Winter che ha finanziato gli eventi atunali della DMC Gran Sasso Laga è un programma ideato dalla regione Abruzzo per rafforzare la promozione turistica del territorio e creare attrazione anche nei periodi di bassa stagione un esempio è la Fiera del Tartufo Bianco e nobili vertù di Poggio Umbricchio che richiama migliaia di visitatori c'è stata un'attività da parte del territorio importante cosa che forse nessuno pensava si potesse attuare e questo è importante perché è un territorio che in questi giorni darà al turista la possibilità veramente di godere di qualsiasi tipo di esperienza Passiamo alla pagina sportiva delicata partita domani per il Pescara che in occasione del turno infrasettimanale ospiterà l'Atalanta la squadra dell'ex Gasperini arriva in riva all'Adriatico in condizioni sbaglianti dopo aver battuto anche due grandi come Napoli e Inter Andrea Costantini Le prossime partite casalinghe costituiranno uno spartiacque nella stagione del Pescara domani con l'Atalanta e il prossimo 6 novembre con l'Empoli sono appuntamenti da non sbagliare partite nelle quali corroborare la classifica e anche l'autostima del gruppo trovando quantomeno la prima vittoria sul campo non sarà facile farlo ma bisognerà prima o poi iniziare a vincere se si vorrà alimentare l'obiettivo salvezza anche perché le prossime trasferte saranno sui campi di Milan e dopo la sosta Juventus e Roma al netto di incredibili imprese è facile immaginare un bottino vicino allo zero l'Atalanta però arriva all'Adriatico Cornacchia estremamente carica le incomprensioni e le problematiche di inizio stagione sembrano un lontano ricordo e per l'allenatore Giampiero Gasperini sarà un ritorno sereno nella città dove ha giocato per cinque anni lasciando un ottimo ricordo anche se non potrà essere in panchina perché è squalificato gli orobici hanno battuto Inter e Napoli e hanno centrato dieci punti nelle ultime quattro partite salendo a ridosso delle migliori a Pescara non ci sarà Toloi che si è fatto male due giorni fa al suo posto Conco favorito su Zucanovic Caldara e Masiello completeranno la linea a tre di difesa davanti a Beriscia l'ex lancianese Conti e Dramesol che ranno le fasce Freuler e Kessi gli interni Kurtic trequartista ad affiancare Gomez in attacco uno tra Piniglia e Petagna il cileno messi da parti di Sapori col gasp è stato premiato dal tecnico che ne apprezza l'impegno e gli ha dato un frammento decisivo nella gara contro l'Inter Petagna è la rivelazione ma potrebbe tirare il fiato direzione di gara affidata a guida di Torre Annunziata e torneranno a disposizione anche Koda Muric e Manai per la gara di domani come abbiamo detto domani sera l'Adriatico con l'Atalanta il tecnico d'oggi in conferenza stampa si è detto fiducioso per la sfida con i Nerazzurri ascoltiamo se sta bene e non ha problemi potrei anche farlo giocare Manai è un ragazzo giovane di appena 20 anni che per me ha un grandissimo potenziale un giocatore fortissimo come un giocatore fortissimo è il buyback se potessimo avere la disposizione sarebbe tutto più bello c'è un aspetto particolare che secondo me non è da sottovalutare noi non abbiamo mai preso gol a difesa schierata o quasi mai cioè nel momento in cui gli altri attaccano e ci fanno gol se non con l'Inter magari gol di Cardi ma quello è stato un gesto tecnico individuale di un giocatore importante i problemi sono nati quando abbiamo perso noi la palla o meglio quando le abbiamo regalata e noi lavoriamo tantissimo su queste cose qui perché ovviamente se tu hai una squadra che vuole costruire che vuole avere il pallino del gioco e quant'altro devi mettere in conto che la palla insomma ci sono anche gli avversari e la puoi perdere ed è proprio in quei momenti che tu devi stare più attento ma su questo noi ci lavoriamo giornalmente quotidianamente da due anni a questa parte io non posso andare alle ragazze e dire ragazzi oggi giochiamo male che la vinciamo sicuramente noi dobbiamo farti tutto per fare quello che sappiamo fare stando attenti molto più attenti a quelle cose su cui dobbiamo dobbiamo migliorare ma su questo io non ho dubbi io sono ancora più convinto ancora più strasicuro che che noi ne usciamo e ne usciamo anche bene ci sono tutte partite difficili non c'è una una squadra scarsa non ci sono partite facili sono tutte difficilissime questo vuol dire che non è che perché arriva l'Atalanta eh dobbiamo vincere per forza perché perché è l'Atalanta perché l'Atalanta ha vinto con il Napoli ha vinto con l'Inter e quindi certamente è una squadra è una signora squadra una squadra che è forte che ha esperienza che da tanti anni in Serie A e che ha i suoi valori come i valori li abbiamo noi sarà una partita difficile perché ha una struttura di gioco particolare concede pochissimo è una di quelle squadre che vi dicevo prima che punta molto sulla solidità difensiva vada tanto a non prendere poi ha un giocatore su tutti come Gomez che è capace di fare la differenza ed è una di quelle squadre che gioca molto sull'errore degli avversari per poi essere molto solida a non concedere andiamo in Lega Pro il Teramo non andrà in ritiro ma si concentrerà solamente sulla trasferta di Gubbio bocche cucite e lavoro sodo per uscire fuori da una situazione di classifica drammatica al servizio niente ritiro il Teramo intesa come squadra se la cava solo con una ramanzina dopo l'ennesima debacle di questa stagione questa è la decisione della società biancorossa che domenica sera ha avuto un lungo incontro per decidere come comportarsi dopo il sabato infernale contro l'Albino Leffe bocche cucite però niente taccuini microfoni o distrazioni nulla ieri il presidente Campitelli è stato al Bonoli si ha redarguito la squadra per 40 minuti ha chiesto ai giocatori di assumersi le proprie responsabilità facendo scudo sul tecnico insomma una presa di posizione semplice o si cambia o non sarà nofri a pagare ma qualcuno della rosa intanto c'è attesa in settimana per l'ufficializzazione del nuovo direttore sportivo se io qui retrocedo mi parto il lavoro poi è dura per me cercare squadra quindi assolutamente non bisogna fare questo ma come un ragazzo giovane che magari viene qua per far bene non per far male e retrocede perché poi è dura il calcio è così quindi bisogna mettere molto molto di più di tutto dal lunedì al sabato e dire che sabato l'impegno è di quelli difficili complicati perché c'è il gubbio secondo in classifica ieri Bulevardi è stato tenuto a riposo precauzionalmente nulla di grave per il centrocampista uscito con una caviglia malconce dalla sfida del Bonolis oggi lavorerà con i compagni e sarà a disposizione sabato sera al Barbetti Jefferson è completamente recuperato e ha svolto praticamente quasi tutta la seduta in gruppo ancora differenziato invece per Carraro per il quale sembra ci sia ancora da attendere quella che invece il Teramo non può più attendere una vittoria anche perché il baratro ogni giorno che passa si apre sempre più grande sotto i piedi del diavolo è tutto l'appuntamento con l'informazione torna puntuale alle ore 23 grazie per l'attenzione e buon proseguimento grazie per la visione